no no in figa della madonna davanti ti aggiusterai figlio di puttana ti aggiusterai no è porco dio se non funzioni dio cane ti aggiusti così no dio porco del cristo morto devo andare a controllare il balcone vado a controllare il balcone raga aspetta però non posso andare a controllare il balcone senza fare questo questo non ci sta più niente questo è buono no questo ha preso il volo 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 questo non ha preso il volo questo si qua c'avevo qualcosa pacchetti con una base e proprio a scevander sa vabbè ci potrebbe stare grazie da una bandiera gustosa olanda a t o a o a o a a o proprio lui proprio io è stata precisa brava e adesso lo guardiamo insieme cosa ci esce cosa ci esce cosa stai sbustando fatta curiosa Brasile ma te la mia ero d'oro sei ma te la mia ero d'oro te ma quante cazzo le conosco pacchetto giocatori rari il datone ti farà godere più oppure si detta oh work out della cempio portoghese sono oh mio Dio 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 ma che cazzo ma che ma guarda ma manco se lo sta in culare il pesce frate ma quello quel pesce è costato 20 euro ma perché cammina per la stanza senza un motivo ma è inquietante raga ma che fa oh Dio oh Dio oh Dio oh Dio oh mio Dio voglio morire voglio veramente morire ma chi ma 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 bravo kyun 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 ripariamo la la l'archiviazione esterna va bene Allora ragazzi a me va bene Questa cosa ma dovete far fare A Sabaku veramente questo Cioè dovete fargli ascoltare live Bobby Bobby E se è un amico La balla Lo dovete convincere Nei commenti Non è coperaitata questa è originale Di chi ha fatto la canzone Io devo essere qualcosa di diverso Dall'onda del meme Sei un amico No Quello che accade Quello che rende questi momenti speciali E che tali Diciamo potrebbero essere Capolavori o atrocità Di quello che è la creatività umana Nascono Non perché io mi sono messo a ballare E viene spammato in giro È accaduto qualcosa Che mi ha fatto fare Tale evento Ed è stato Costruito intorno ad esso Bobby Bobby Altrimenti non ne varebbe la pena Mi dispiace ragazzi Dovrete far sì Di vivere In un momento inaspettato Qualcosa che mi faccia essere Da me stesso Spontaneo Altrimenti si perde la magia Altrimenti si perde la magia Urlo poteroso Ma Quanti li apriamo? Quattro Gli ha la fama Che dici? Ora lo sai Trecentomila Forse Tre li apriamo Dovrebbero aprire Mezzo Mezzo milione Così usiamo tutto Sì ma tanto Vecchio Non capisco la gente Dove cazzo Prenda Gli sgrodoli Gli sgrodoli frate Che ce li fa? Sono tutti sgrodolanti Tutti sgrodolosi 10 secondi 10 secondi 13 Dai ma se 21 21 Dai che sculite